Ciao a tutti, ben ritrovati. Quasi esattamente un anno fa, a ottobre del 2018, la europarlamentare del movimento Daniela Aiuto, lasciando il partito, aveva denunciato ingerenze da parte di Casaleggio Associati, Davide Casaleggio, insomma, quell'ambiente, nelle sue attività parlamentari e nelle sue attività private anche. Questo aveva sollevato la curiosità e l'interesse della loro vicepresidente del Parlamento europeo, che oggi è presidente, David Sassoli, il quale aveva convinto l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo a avviare un'istruttoria per indagare, per capire cosa effettivamente fosse successo. Quell'istruttoria, lo diciamo subito, è finita sostanzialmente in un nulla di fatto, ma l'aveva previsto anche Sassoli parlando con noi per il nostro libro Il sistema Casaleggio e ha concluso che non ci fu ingerenza, ma fu sostanzialmente una normale dissenso all'interno del partito, dinamiche interne. Sarà interessante vedere i verbali di quegli incontri. Però, appunto, parlando con il presidente Sassoli l'anno scorso, in realtà, quello era, nelle sue intenzioni, soltanto l'inizio dell'attività di comprensione di questo nuovo sistema di gestione del potere e del consenso, perché c'erano alcuni punti, ci sono tuttora alcuni punti che rimangono da chiarire. Lui spiegava che, a parte il fatto che ci fu un interesse per quel singolo caso specifico, l'ufficio di presidenza ha votato all'unanimità per avviare queste istruttorie, ma, in realtà, ci spiegava Sassoli, in Europa non si capisce esattamente, non si capisce bene chi siano queste entità attorno al movimento, Casaleggio Associati, Associazione Russo, non si è capito bene la struttura del partito. C'è scarso interesse, forse, ma c'è anche scarsa comprensione. Questo cambierà presto, restate collegati, seguitemi, vedete che ci saranno delle cose interessanti nelle prossime settimane, ma, appunto, c'è questo problema di mancanza di comprensione, di conoscenza dell'argomento. Il problema, diceva Sassoli, è che queste istruttorie andavano fatte perché non ci sarebbero gli strumenti, qualora ci fosse un'effettiva ingerenza. Di solito il parlamentare che fa gli interessi privati di qualcuno lo fa consapevolmente e, se del caso, non è questa la circostanza, ci si trova davanti a un problema di corruzione o violazione delle norme sulle lobby che in Europa sono regolamentate, ci sono dei registri, ci sono delle regole ed eventualmente quella è la cornice dentro cui si va a capire se ci sono delle violazioni. Ma non è mai successo, spiegava, che ci si trovasse davanti a un caso in cui il parlamentare si sente costretto, ci sia una coercizione nei suoi confronti per agire in un certo modo piuttosto che in un altro. Non ci sono gli strumenti giuridici, spiegava, per eventualmente affrontare questa situazione. Il Parlamento è preparato almeno a cercarli perché appunto c'è stata questa istruttoria, ma è un percorso molto lungo che andrà affrontato, andrà seguito e andrà approfondito molto bene. Io ci proverò con i miei mezzi, come sto facendo da qualche anno, e ci proverò anche in maniera un po' più allargata nelle prossime settimane se riesco a organizzare un paio di cose a cui sto pensando. Vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo i miei canali social, mi trovate sempre con il nome utente Marco Canestrari, su Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, su tutte le piattaforme di podcasting, sul mio sito internet marcocanestrari.it dal quale potete iscrivervi alla mia newsletter settimanale. Ogni sabato vi mando il riassunto di quello che ho letto e scritto. Grazie e a presto.